Tra i minuti e cadi in area di rigore della Lazio, noi abbiamo avuto un sussulto in tribuna, era fallo da rigore oppure no? Secondo me c'era fallo da rigore, ho provato di mettere il mio corpo davanti allo suo per guadagnare tutto lo spazio e avere la possibilità di tirare. Parlando anche con Radu all'inizio del secondo tempo mi ha detto anche lui che c'era rigore mi ha detto che mi ha spinto e da quello punto lì potevamo parlare adesso per un'altra partita. Sicuramente, si poteva parlare di un'altra partita, Massa che cosa ti ha detto? Lo so se ti hanno riferito ma questo arbitro qui ha già fatto dei danni a Verona, sia in Serie C che in Serie B. Sono andato a chiedere se c'era rigore però credetemi sono onesto, adesso non mi ricordo cosa mi ha detto c'è tutta la pressione della partita, non mi ricordo cosa mi ha detto veramente. Senti, d'accordo il rigore poteva cambiare anche l'esito di questa partita, però l'impressione è che il Verona rispetto alla gara con Napoli magari anche giustamente fosse un post carico nei confronti anche di una grandissima Lazio. Sì, il Lazio adesso sta benissimo, noi volevamo fare la nostra partita come Napoli, come le ultime prestazioni, non è stata facile, non abbiamo sfruttato le occasioni che potevamo avere come questa di rigore, dopo un'altra, due o tre ancora con il colpo di testa di Vag. Non eravamo quelli che potevamo essere, però bisogna guardare avanti. Queste sconfitte, diciamo così, non è che fanno malissimo la squadra, credo che tutti lo sappiano che giochiamo sempre per vincere, però una sconfitta che non fa tanto tanto male perché abbiamo fatto bene le ultime partite. Allora bisogna guardare avanti, c'è una partita dopo la sosta con Cesena, un finale per noi, credo che saremo quelli che dobbiamo essere. Dopo aver giocato con Roma, Napoli e Lazio, a tuo avviso qual è la squadra favorita per il secondo posto? Secondo me è un posto per due squadre, Lazio e Roma. Vediamo se Roma riesce a dimostrare quello che era il primo giro di Antata. Secondo me queste due squadre. Dove è mancato il Verona secondo te oggi? È mancato in qualcosa? Non abbiamo trovato lo spazio che volevamo trovare perché loro rientravano veloci e noi, come ho detto anche prima, non eravamo anche questi che potevamo essere, però una partita così succede. Come è stato ritornare in campo dal primo minuto? Bellissimo, non posso dire un'altra cosa, è bellissimo. Credo che fino adesso ho aiutato la squadra anche sui momenti difficili. Ogni calciatore vuole giocare dall'inizio, però va bene, non so. Per rispondere solo alla sua domanda è bellissimo. Adesso ci sarà la pausa, andrete via te, Moras e Taksilis con la Grecia, poi ci sarà il Cesena, quella diventerà una partita molto importante. Come ho detto prima, è una finale per noi, dobbiamo assolutamente vincere per divertire anche a noi stessi e anche ai tifosi nostri. Che cosa manca a Lazzaro in questo campionato? Che cosa ti senti ancora di poter dare a questo campionato? Io potevo avere, non so, due gole ancora, tre gole ancora, però con gli assi sono a posto, mi sa, cinque. Se giocavo anche tutte le partite è così che quando trovavo ritmo stavo fuori e non è una cosa che la dico per far male alla squadra, lo dico solo per me e per rispondere alla sua domanda. Un anno particolare perché dopo il mondiale è così, ancora però ci sono dieci partite. Quello che mi manca chissà, forse lo posso trovare.